salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo con il mavic air ci troviamo sempre a castiglione della pescaia ma oggi faremo volare il mavic in una riserva naturale la riserva naturale d'accia bodrona c'è un sacco di fauna e un sacco di paesaggio fantastico poi se riusciamo vogliamo anche sopra una collina dove sono rimaste due mura di un'antica villa romana sempre all'interno di questa riserva naturale quindi ragazzi senza perdere altro tempo prepariamo il mavic e vogliamo nella riserva naturale d'accia bodrona un'altra riserva naturale d'acciaio grazie a tutti 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 ok ragazzi anche questo video della riserva naturale d'accia bodrona a castiglione della pescaia è finito mi raccomando se il video vi piace se vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video o voli ciao ciao